Definitivamente archiviata l'epoca dell'austerity, anche gli stati, che ne sono sempre stati fautori, ammettono che il coronavirus apre una nuova era di recessioni e aumento del debito. Il gabinetto di Angela Merkel ha varato un pacchetto di misure da 156 miliardi di nuovo indebitamento sul bilancio 2020 per tamponare i danni all'economia causati dal coronavirus. Nello stesso pomeriggio è arrivata la notizia che la cancelliera è negativa al test del coronavirus. Si era messa in autocuarentena dopo aver semiconfinato i tedeschi. Negli spazi pubblici è autorizzata esclusivamente la circolazione di persone sole o accompagnate al massimo da un'altra persona, se strane al nucleo familiare. Chiusi in tutto il paese, centri estetici, parrucchieri, ristoranti, si può uscire solo per andare al lavoro o fare commissioni importanti. Intanto, mistero tedesco, la Germania conta poche decine di morti, pur essendo il quinto paese al mondo per numero di contagiati. Tra le spiegazioni il precoce abbandono della famiglia d'origine da parte dei giovani, che, vivendo a maggiore distanza dagli anziani, non li contagiano.